momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di endless love in programma nelle prossime settimane di programmazione su canale 5 le anticipazioni della serie tv made in turchia segnalano che leila passerà dei guai davvero molto grossi la donna rischierà addirittura di morire quando deciderà di combattere per la giustizia e i più deboli il cuore di leila è d'oro ma questa volta la sua bontà potrebbe costarle molto caro dagli spoiler di endless love si apprende che leila si metterà contro gallip il quale avrà intenzione di ucciderla per eliminare il problema pertanto il padre di emir commissionerà il suo omicidio nonostante questo la sorella di bildan riuscirà a salvarsi sebbene la grave ferita ricevuta endless love prossime puntate leila scopre il segreto di gallip nelle prossime puntate di endless love leila indagherà su alcuni strani malesseri che i bambini hanno all'asilo i medici non sapranno dare una risposta certa fin quando la donna scoprirà che i bambini passano tutti da una strada un luogo arido in cui gallip aveva seppellito dei rifiuti radioattivi facendo ammalare i piccoli ospiti dell'asilo la sorella di bildan spaventata si recherà dal padre di emir per avere un chiarimento ma proprio in quel momento l'uomo deciderà di ucciderla gallip si dimostrerà un uomo malvagio non da meno di suo figlio non solo ha ridotto mujeigan allo stato comatoso per tantissimi anni ma adesso riverserà tutta la sua rabbia nei confronti di leila rea di aver scoperto il suo segreto